Dove siamo? Nel rifugio di Alejandro. Mi ha dato la sua posizione. Perché non me l'ha detto? Non ce n'era bisogno. Come fai a dirlo? Una placca. L'ha messa Alejandro. Forbo il bastardo. Là. Fermo! Chi sta lì? Rodolfo! Sop! Ghost! Siete vivi? Affermativo. Felice di vedervi, amigos. Igual, amico. Bellancio. Dove eravate? In fuga. Io ero in fuga. Ghost mi ha aspettato. Ovvio, no? No. Sì. Siamo un team. Tutti quanti. È successo sotto il mio comando e mi servirà aiuto per rimediare. Nessuno combatterà da solo. Perché Graves ha tradito? Non lo sappiamo. La Salma scorrompe chiunque. Non noi. Al momento, il generale Shepard, l'Aswell e chiunque non sia qui presente va considerato ostile. Con un'eccezione. Alejandro. Dobbiamo salvarlo. Ven. Graves lo tiene qui. La sua prigione è segreta personale. Ci sono anche i miei. Come li tiriamo fuori? Andando dentro. È questo che mi piace di Ghost. Servirà molto più di questo. È ben fornito. Ottimo. Non male. Serve un nuovo trasporto. Meglio se è corazzato. Alejandro ha pensato a tutto. Direi di sì. Salviamolo. La vecchia prigione è in una zona remota fuori la Salmas. Era di massima sicurezza prima che arrivassero in Arcos. Poi è stata chiusa. Non c'è una pista, ma aspettiamo celicotteri nemici di supporto. Guideremo, poi andremo a piedi fino al punto d'ingresso. Qui. Se le torri sono presidiate, le neutralizziamo e usiamo il cavo per arrampicarci. E le telecamere? Sono gestiti dalla stanza della sicurezza. Li useremo per trovare Alejandro e il resto dei tuoi. Ci divideremo i compiti. Mentre Rudy trova Al, con le telecamere aiuterò Ghost a piazzare le cariche. Diversivi e sabotaggio. Mi piace, Johnny. Ho imparato dal migliore. Appena troviamo Alejandro e Los Vaqueros, ci riuniamo e li tiriamo fuori. Porteremo delle armi in più per i miei uomini. E usciremo da dove siamo entrati. Qualche domanda? Che aspettiamo? Non sarà facile entrare. Aspettiamoci battuglie all'esterno. Sicuro. C'è tutto. Armi, munizioni e cariche negli zaini. Fucile rampino. Risalitori? Li ho. Ce l'ho. Alejandro sarà vivo. Contaci con me. A sinistra c'è un sentiero. Seguiamolo. Rudy, da quant'è che conosci Alejandro? Vent'anni. Ci siamo arruolati insieme. Era il duro del reggimento. Non vorrei mai avercelo contro. Noi dicevamo è l'unico che può ammazzare Alejandro è Alejandro. Che significa? L'unico che può ammazzare Alejandro è Alejandro. Per fortuna è dei nostri. Avevo. Stop. Ecco la prigione. Battuglie all'esterno. Dobbiamo farle fuori per entrare. Due cecchini, prima torre. Sob, prendiamone uno a testa. Torre Sob, lato sinistro. Uccidine uno. Shadow a terra. Bel lavoro, Hermanos. Faccio il giro e sgombriamo il campo. Rudy, dacci una mano. Non sparare! Un elicottero in arrivo. Sembrano rifornimenti. Ricevuto. Vedo sei, Shadow. Confermato. Tre al veicolo, due dietro, uno sul tuo fianco destro. Prima becca quei due al veicolo. Gli altri non vedranno. Buona idea. Sob, al mio segnale c'entra quello col berretto. Fatto. Check. Tre, due, uno. Ottimo. Due a terra, in movimento. Prendi quei due a destra del veicolo. Io penso a quello sull'altro lato. Aspettiamo te, sergente. Veicolo lato destro. Due Shadow allo scoperto. Libero. Libero. Cozza Sob! Ci hai fatto beccare! Arrivano in forzi! Un elicottero in arrivo. Sembrano rifornimenti. Ricevuto. Vedo sei Shadow. Confermato. Tre al veicolo, due dietro, uno sul tuo fianco destro. Prima becca quei due al veicolo. Gli altri non vedranno. Buona idea. Sob, al mio segnale c'entra quello col berretto. Fatto. Check. Tre, due, uno. Ottimo. Due a terra. In movimento. Prendi quei due a destra del veicolo. Io penso a quello sull'altro lato. Libero. Via libera. Andiamo alla base della torre. È il punto d'ingresso. Silenzio. Andiamo lassù. Ci siamo. Forza, tenente. Su, vai tu. Vai, Sup. Non sbagliamo lassù. In silenzio. Sì. Su. Ok, arrivo. Alla stanza della sicurezza. Insieme. Cerca un portello con una scala. Commesso. Scendo. Ok, arrivo. Sopra di te. Ci siamo. Muoviamoci. Più avanti c'è la sicurezza. Le telecamere sono dentro. Rapidi e furtivi. Due dentro. Facciamoli fuori prima che chiamino i loro amigos. Entriamo lì dentro. Vai, Sup. Vai, Sup. Via libera. Useremo le telecamere per cercare i miei. E trovare Aleandro. Ti serviranno diversivi. Io piazzerò le cariche all'esterno. Sup, dovrai guidarmi. Sì. Vai alle telecamere. Vado. Anch'io. Sono fuori. Tienimi d'occhio. Ok, buona fortuna. Sup, fammi sapere quando è sicuro superare il cancello. Libero, vai. Accedi alla telecamera di fronte e controlla la situazione. Uno shadow. Uccisione facile. Colpiscilo. Puoi muoverti. Shadow multiple. Sono corazzati. Stai basso. Confermo. Shadow sul balcone. Devo avvicinarmi. Parlami. Vai, Ghost. No, lasso non ci arrivo. Vai, tenente. Vai a sinistra. Shadow, sinistra. Non è male avere un aiutino, eh, tenente? Concentrati, Johnny. Era per dire... Non distrarti, sergente. Uno dietro l'angolo. Sali. Sali. Eccoti là, sul tetto. Uno più in basso. Uno di pattuglia all'interno dell'area con il filo spinato. Dimmi quando posso andare, sergente. Hanno corazze. Dovrò avvicinarmi. Cassulto a destra. Perfetto per buttare la spazzatura. Sì, lo so. Che cazzo. Via libera. Dagli una pugnalata. Cazzo. Dagli una pugnalata. Centro. Uno all'angolo, con l'arma abbassata. Sparagli un proiettile. Abbattuto. Libero. Muoviti. Muoversi verso il camion. Ottimo punto per una carica. Che ne dici? Guardia sulla passerella. Aspetta, ti dico quando. Libero. Vai. Ho visto un buon veicolo per una bomba. Riportami là, Sop. Muoversi verso il camion. Tresciado più avanti. Uno al camion, due dietro la cucina. Muoversi verso il camion. Ottimo punto per una carica. Che ne dici? Procedi pure. Ricevuto. Bomba piazzata. Mi muovo. Libero. Vai. Guardia sulla passerella. Aspetta, ti dico quando. Aspetto il via libera, sergente. Laggiù. Sinistra. È ora di un diversivo. Tresciado più avanti. Uno al camion, due dietro la curva. Ti servirà un diversivo. Pane per i tuoi denti. Via la luce. Va verso il pannello elettrico. Ma a meno che non si imbatta in me lungo la strada. Vattene da lì, sergente! È ora di un diversivo. Vai a destra. È ora di un diversivo. Pane per i tuoi denti. Via la luce. Va verso il pannello elettrico. A meno che non si imbatta in me lungo la strada. Adesso. Non sono tanto male, vero tenente? Ho visto di meglio. Tipo? Me. Uno, sinistra. Sparagli. Puoi procedere. Adesso, Ghost. Uno alla tua destra. Uno alla tua destra. uno shadow potrebbe trovare quello che hai ammazzato. O potrebbe unirsi a lui. Nessun pericolo. Vai. Usa il coltello. Sogni d'oro, coglione. Tutto tranquillo. Vedo un pick-up che puoi sabotare. Grazie, sergente. Uccidilo con una coltellata. Atterra. Metto la carica. Due piazzate. Mi muovo. Ne hai uno davanti. Laggiù. Johnny, dammi il via libera. Uno a destra. Uccidilo con una coltellata. A posto, tenente. Destra. Nessun pericolo. Vai. Avanti. Libero. Muoviti. Tutto tranquillo. Quel corazzato aspetta solo una bomba. Fatto. Prossimo. Vai, tenente. Libero. Vai. Uno sul tetto, Gosta. Trovami un modo per salire. Libero di muovermi, sergente. Laggiù. Guarda. Al tuo segnale, Sop. Uno versi verso il camion. fatto, prossimo. Vai, tenente. Libero. Vai. Laggiù. Ne hai uno davanti. Sparagli addosso. Mostragli qualcosa di affilato. Usa la lama. Portene da lì, tenente! Fatto. Prossimo. Vai, tenente. Libero. Vai. laggiù. Avanzare. Muoversi verso il camion. Vai, Gosta. Ne hai uno davanti. Sparagli addosso. Mostragli qualcosa di affilato. Buonanotte, testa di cazzo. A sinistra. A sinistra. A destra. Procedi pure. Uno scherzetto per gli shadow. Qui siamo pronti, Johnny. Abbiamo trovato Alejandro. Tempismo perfetto. Trovato. Dove? Un attimo. Porca puttana. Eccolo là. In isolamento. Due ostili. Li vedo. Ghost, l'ho trovato. È da solo. Due shadow di guardia. Va bene. Vediamoci fuori dalle celle. Lo libereremo. Ricevuto. In movimento. Ottimo lavoro. E guà, l'amico. Alejandro farebbe lo stesso per noi. E so che niente. I Vacheros ci aspettano. Ghost, come va? Sto arrivando. Ricevuto. Stiamo arrivando. Occhio all'elicottero. Siamo fuori dalla sua linea di tiro. Scelle, l'ingresso è laggiù. Ci sono shadow di guardia. Mandiamoli all'inferno e andiamo dentro. Via, libera. È chiusa. Sfondiamo? No, Rudy. Bussa. Con me? Temici al primo piano. Ci sono altri dalle scassi. Questo uomo a terra. Sopra. Noi li teniamo pari. Sopra. 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 Dietro di te, sergente. Alejandro è qua su. Andiamo. E' lungo il corridoio. A destra. Aspettatevi uno sconto. Aspettatevi uno sconto. Shadow di merda. Quella è la cella di Alejandro. Apritela. Io vi corro. Johnny. Appena lo faccio saltare, tu entri. Siamo qui per questo. Alejandro. Sono io. Colonnello, si calmi. Cazzo, siamo noi. Sop. Rudy. Ghost. Pensavi ti abbandonassimo? Ci ne avete messo di tempo, pendecco. Ci sono Shadow ovunque qui. Sarà dura. Ne abbiamo viste di peggio. Ci sono altri Vacheros di sopra. Tiriamoli fuori. Ci sono, Rodolfo. Hai visto Graves? No. Intendo farvi una visita speciale. Anch'io. Ci sono guardie su tutti i piani. State pronti. Tutto quello che hai. Cos'è, putta? Uccidete tutto quello che si muove. Campo libero. Vacheros sono chiusi in queste cellule. Ci siamo, Vacheros. Si torna a casa? Siamo qui, fratelli. Diamo fuori. Diamo le porte. Le porte sono motorizzate. I controlli sono nel posto di comando dall'altra parte del corredore. Capito, Johnny? Va lì dentro e apri quelle porte. Ci passo io. Orale, mi sermano si fa la parte. Il sergente parrà delle armi. Prendetele, state qui. Ma Dante sta sviluppo. Che altri con me? Il dito sia. L'icona ha preso un vero. Ci sono. Questa era la messa. Ho perso l'appetito. Orale. Gli Shadow sanno di noi. Attenzione. Questa era la messa. Ho perso l'appetito. Orale. Gli Shadow sanno di noi. Attenzione. Gli Shadow sanno di noi. Questa era la messa. Ho perso l'appetito. Orale. Gli Shadow sanno di noi. Attenzione. 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 La Righto. Attenzione. La stanza è grande. Controlliamo più che tutto libero. Sembra libero, colonnetto. Nessuna minaccia. Aggrupparsi alla porta. C'è un lucchetto. Lo faccio io. Ghost è sempre pronto. Avanti, colonnello. Via le sicure. Le scale scendono e portano fuori. Raggiungiamo gli altri e leviamoci dalle panni. Non provarci. Solo Ghost può farlo. Dovremo attraversare il piazzale per portare via tutti. Non provarci. Non provarci. Chiuno è sul tetto. C'è chi è là sul tetto. C'è Kino a terra Ragazzi che botta Ha funzionato, andiamo Torretta più avanti Cuoco alle polveri Tutto libero? Per ora, prodotto, direzione Passa per l'edificio, lato sinistro Questi Shadow sono dei pazzi Mercenari, Johnny Dilettanti del cazzo Sembra tranquillo Johnny, prendi qualsiasi cosa possa tornarci utile Ok, immobili Ok, immobili Noi abbiamo delle gara Noi abbiamo delle gara Avanti Possiamo fare il giro attraverso un campo Dobbiamo scavalcare quel muro Sentito? Porta è chiaro, Price Arriviamo Chi è? Cinga su madre Un amico Lui già mi piace Andiamo Ma che è la scucia duro Tra le torri? Adesso! Le corde sono in posizione Trovate le salite Ho capito Per ora è sicuro Ma gli Shadow sono in arrivo Contaci Sargenti Mettavich Felice di vederti Ghost Garrick Price Chi vi ha? Laswell Quando Shepard è sparito ha chiamato noi Laswell Quella donna è una roccia Colonnello Capitano Price Sergente Garrick Grazie Ai miei serve copertura Gas Ghost Soap Coprite Ora Veicoli in arrivo Potendo Sotto Su quei veicoli C'è la battaglia Spara la scuola Veicolo distrutto Rudy Andai tuoi Super la torre E' la nostra occasione Mi è avuto Guardi la torre a destra Andate via le scuole Trovi armi in quella torre Usala Cazzo guarda qua che roba Arrivano altri veicoli da davanti Ho lanciato a te Torre di copertura Alleati risalgono le corte Appena sono su ce le affiliamo Hanno cecchini sui detti Fateli fuori Torre a terra Ha funzionato Muoversi muoversi Adesso c'è casco libero Possiamo andare Ricevuto Leviamoci dalle palle Armano No No Calma Ciò per il muro Ci prendiamo Gente alla corda Andiamo Quei due sono nostri Confermo Rodolfo Va a recuperare il mezzo Ricevuto Vacheros con me Rudy vediamoci alla casa Sicuro colonnello Auguri Capitano Con me Sì Gazz guida Subito Go stop Vediamoci Salite Parti Gazz Shepard ci ha fregato Ha mandato Graves E la Shadow Ucciderci E rastrellato I vacheros Sappiamo perché Laswell ha indagato Un po' Ma cosa ha scoperto La verità La verità